Ciao a tutti e a tutte, ciao! Buon pomeriggio, che spettacolo! Questo tramonto sul Monte Giovo Siamo a Lago Santo Modenese, quota 1500 metri Questo è il mio rifugio, il rifugio Alpino Vittoria Siamo qui dal 1986, laggiù in fondo c'è il Monte Cimone E nulla, vi aspettiamo per questo fine settimana Di metà marzo, purtroppo avremo un tempo un po' particolare Ma noi comunque siamo operativi già da questa settimana Siamo stati quasi sempre qua su Comunque noi siamo operativi da oggi, che è giovedì E vi aspettiamo per venerdì, sabato e domenica In nostra compagnia, in compagnia di questo spettacolare posto che ci sovrasta E vi auguro una buona serata Da me, Rifugio Vittoria e dal Ben Nevis del Texas Ciao!